Grazie all'assessore Bragato, grazie all'amministrazione del Comune di Legnano, per me è un motivo di grande felicità il fatto che ci sia questa continuità in questi anni, stiamo leggendo pian piano tutta la commedia, per cui tre canti alla volta, non è così frequente che si possa continuare a lavorare con un progetto, per cui appunto ringrazio molto l'assessore, l'ufficio cultura, la signora D'Antona, tutti, Mattia, il tecnico, i custodi, tutto il personale del Comune e naturalmente un carissimo saluto a voi, che bello vedervi così numerosi per il poeta, è un altro piccolo segno di speranza in un tempo di selva oscura come quello che stiamo vivendo, per cui veramente questi incontri mi sono poi particolarmente cari, perché l'estate è stagione a me carissima, ma anche di liberazione da tanti punti di vista, per cui godiamoci in qualche modo la riflessione insieme su Dante. Il percorso che ho pensato per voi è articolato come sempre sulle tre cantiche e ci occuperemo dei tre ventisettesimi canti delle tre cantiche.